San Vigilio di Marebbe, è ufficiale la partenza, subito in mezzo al bosco, vediamo anche un po' di sole là davanti, è stato il sentiero che porta al Pederù Pederù, 1548 e qui inizia la salita, già bella impiccata 21%, 24%, 27%, durissima, dai su in selle ragazzi, un po' di sosta ma tutte le selle metti a posto i capelli dai! Scusa, mancano 270 metri al rituso Biella! Ma è bellissimo! Ma si sconvolte con i trucchi! Ormai 2100, molto bene! Esatto, Rifugio Sennes, 1127! Drone, davanti abbiamo il Rifugio Biella! Rifugio Biella, arrivati due, tre e venticinque! Sì! 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 Sì, 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 sì. bravo padre bravo gioco Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.